Si avvia la conclusione della cinquantesima edizione di Vinitaly, che sarà ricordata non solo per la partecipazione dei presidenti della Repubblica Sergio Mattarella e del Consiglio Matteo Renzi, ma anche per i risultati a livello internazionale raggiunti dall'Italia enologica. Secondo i dati presentati nell'edizione 2016 del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, le esportazioni in viti vinicole hanno superato in Italia nel 2015 i 5,4 miliardi di euro, con un più 5% rispetto all'anno precedente. Meglio ha fatto la Puglia, che con i suoi 7,5 milioni di ettolitri e 88 mila ettari a vigneto ha registrato addirittura un più 6% di incremento nelle esportazioni. Merito esclusivo del grande lavoro dei produttori e noi cipugliesi e di un'attività di promozione che negli ultimi anni ha permesso di conquistare importanti quote di mercato. L'errore grave che noi possiamo commettere è immaginare di poterci sedere sugli allori costruiti in questi anni. Noi abbiamo bisogno di coltivare questo protagonismo pugliese, che è un protagonismo fatto soprattutto dai produttori, che le istituzioni hanno accompagnato e che non può attendere i tempi della politica, che a volte sono incompatibili con la necessità delle imprese e dei mercati, che oggi indicano la Puglia come un protagonista importante nello scenario economico internazionale. Un'attività di valorizzazione realizzata non solo nei mercati esteri ma anche in Puglia, con appuntamenti come il Negro Amaro Wine Festival, evento che sarà ospitato a Brindisi dal 15 al 17 luglio prossimi e rivolto ai wine lovers ed enoturisti. 300.000 visitatori di questa manifestazione, di questo wine festival, testimoniano chiaramente l'interesse che tutte le persone hanno per questo grande vitigno, Negramaro, che ha dimostrato di essere la nostra civiltà, la nostra civiltà contadina, la nostra civiltà enologica, il vitigno versatile da cui noi siamo riusciti a fare delle cose grandiose.